L'ora con Gabriele Flam e Laura Garofalo, vediamo cosa cambia con le misure contenute nella legge di bilancio. 270 pagine di maxi emendamento per circa 30 miliardi di risorse. La manovra economica sta tutta lì dentro. Due i capitoli chiave, il reddito di cittadinanza e 400 sulle pensioni, ridimensionati di circa 4 miliardi e mezzo rispetto alla prima versione. Ora 400 costa 4 miliardi, il reddito di cittadinanza 7,1. Le risorse ci sono, per sapere con certezza come funzioneranno, bisogna aspettare il gennaio e i provvedimenti specifici. Si partirà da marzo, garantisce il governo. La manovra spende 12 miliardi e mezzo per disinnescare gli aumenti dell'IVA nel 2019. Nel contempo rinvia i rincari al 2020, quando serviranno 23 miliardi per evitarli. È questa una delle clausole che ha sbloccato la trattativa con Bruxelles, insieme a quella che prevede di congelare 2 miliardi finché non sarà verificato a luglio che le spese non siano lievitate. E proprio per contenere le spese, gli investimenti sono ridotti da oltre 9 miliardi in tre anni, previsti inizialmente a 3,6. Il governo assicura che le risorse verranno recuperate sotto forma di fondi europei e finanziamenti straordinari. Per le partite IVA, flat tax al 15%, ma limitata ai redditi sotto 65 mila euro. Per le imprese, riduzione dei contributi INAIL. E poi web tax, raddoppio IRES per il settore no profit e maggiori tasse su banche e assicurazioni. Ecco tassa sulle auto inquinanti, medie di lusso e incentivi sulle ecologiche. E ancora lo sblocco sulle imposte locali. I comuni potranno decidere se rivederle a rialzo. Le pensioni sopra 1.500 euro al mese verranno solo parzialmente rivalutate. Quelle sopra i 100 mila euro all'anno subiranno tagli. Molto duri i sindacati. La manovra è pessima e mortifica le fasce deboli. CGL e Cislewil annunciano mobilitazione a gennaio. Tra i provvedimenti c'è anche una nuova definizione agevolata per chi ha debiti con il fisco e può dimostrare di non aver pagato per difficoltà economiche. Per accedere alla sanatoria insieme alla domanda bisognerà presentare il modello ISEE che servirà per accertare la situazione reddituale della famiglia e per calcolare l'importo da versare al fisco. Le norme riguardano le cartelle esattoriali affidate all'Agenzia delle Entrate e prima a Equitalia fino al 31 dicembre 2017. Pagherà di meno chi ha redditi più bassi. Verseranno il 16% dell'importo i contribuenti con un ISEE fino a 8.500 euro, il 20% quelli con un reddito familiare compreso tra 8.500 e 12.500 euro. Mentre dovrà al fisco il 35% della cartella esattoriale chi dimostrerà di vivere con cifre comprese tra i 12.500 e i 20.000 euro all'anno. Come nelle precedenti definizioni agevolate, saranno azzerati sanzioni e interessi di mora. Si potrà aderire al maxisconto fino al 30 aprile 2019 e pagare tutto l'importo entro il 30 novembre oppure versare il dovuto in 5 rate da novembre 2019 fino a luglio 2021 pagando un interesse del 2% l'anno.